buongiorno a tutti oggi parleremo di light play light play significa giocare in modo leggero in modo flessibile in modo da creare una struttura non facilmente attaccabile da parte dell'avversario e facilmente sacrificabile in qualche sua parte cioè è facile sacrificare qualche parte di questa struttura senza compromettere l'intera impalcatura chiaramente il light play è tipico del giocatore molto bravo perché con il light play spesso si induce l'avversario a giocare in modo heavy modo pesante quindi praticamente si gioca un modo che induce l'avversario spesso e volentieri a sbagliare il light play è chiaramente collegato con altre teorie come sabaki e altre tuttavia è importante forse isolarlo e parlarne separatamente il light play è tipicissimo dei computer moderni dei super computer moderni che battono i professionisti specie per quanto riguarda il fuseki se ci si allena con lila zero o roba di questo genere si nota subito che il computer specialmente col bianco gioca in modo molto light sembra quasi che tutto quello che vogliamo fare ce lo permette di fare salvo poi trovarci nel post fuseki completamente senza speranza perché il light play ha come vantaggio quello di instaurare una forte posizione una forte diciamo potenzialità che difficilmente si può contrastare quando ci si accorge della sua presenza vediamo alcuni esempi di light play prendiamo quindi come al solito non c'è dubbio i giosecchi punto 34 si può approcciare anche in questo modo un approccio un po distante non si utilizza al giorno d'oggi tantissimo ma importante sapere che si può fare è un approccio distante no che induce soprattutto i giocatori double digit q ma anche altri a giocare mosse di questo genere terrorizzati dal fatto che il bianco possa prenderci il territorio nell'angolo ma allora cosa gioca il giocatore quel bianco gioca sempre in modo leggero vedete che tutto molto collegato più che connesso è distanziato non è pesante vedete chiaramente questa mossa spontanea e vedete tutto distanziato tutto leggero il nero può anche vedete catturare qualche parte di esso il bianco non ha fretta di salvare le pietre non gioca mosse di questo genere che renderebbero vedete la struttura completamente pesante certa collegata ma gioca sempre in modo leggero gioca così e vedete che tutta l'impalcatura è abbastanza connessa ma non non c'è una vera e propria un vero e proprio attachment e ovviamente questa mossa qua minaccia pure questa questa mossa che chiaramente serve molto buona per il bianco allora il nero si affretta a giocarla vedete che la situazione finale è in qualche modo leggera per il bianco che ha sacrificato se volete questa pietra il nero naturalmente non credo si azzardi ovviamente a catturarla chiaramente serve una mossa chiaramente inutile per il momento e però vedete che il bianco ha pian pianino stabilito una sorta di potenziale al centro e sul lato e il nero è rimasto un po pesante perché vedete che il nero in qualche modo ha giocato tante mosse vicine tra loro il che non significa sempre che siano sbagliate ovviamente però sono mosse che in qualche modo hanno idea di una struttura tutta quanta ferraginosa pesante certo e nero al territorio ma il bianco molto più potenziale caso molto simile da sapere chiaramente poi si potrebbe fare un video anche solo su quello l'ho fatto nel mio nel mio sito ma è una cosa molto molto logica se ci pensate non c'è nulla di magico è solo che non si è invogliati non si è diciamo propensi a giocare in questo modo perché in qualche modo si pensa sempre che perdere pietre significa perdere la partita chiaramente questo funziona solo tutt'al più negli scacchi ma non nel gol attachment no cosa minaccio beh minaccio chiaramente di andare in superiorità numerica su questa su questa pietra e creare delle difficoltà quindi subito magari rinforzo e anzi sembra quasi che questa mossa sia forte perché in qualche modo sembra cappare l'avversario no cioè se il bianco gioca qui in modo heavy ovviamente ecco che il nero ne approfitta subito e la struttura del bianco diventa subito rigida ma naturalmente il bianco non gioca così minaccia di entrare nell'angolo e quindi non deve chiudere e vedete come come tutto leggero tutto tutto a livello potenziale naturalmente sappiamo bene che il nero si gioca così fa esattamente il gioco del bianco perché vedete fa giocare tutte le mosse gratis al bianco e vedete ancora una volta che il bianco ha ottenuto quello che voleva di stabilire la posizione non c'è problema volete catturare qui tutto quello che volete pian pianino anche questa pian pianino il bianco costruisce una struttura sempre più solida te ne accorgi con l'andare della partita ovviamente questo è un esempio solo legato alla situazione locale bisogna vedere poi tutte le surrounding stone questa mossa qua magari manco è necessaria forse è meglio questa che ne sappiamo noi magari gioca così poi si gioca così non come volete non è non è importante l'esatta sequenza delle mosse è importante avere un'idea diciamo di stabilire una posizione creare contemporaneamente una buona forma il bianco vedete minaccia già di giocare qui ma se anche ci giocasse il nero l'idea è quella vedete di rendere il nero pesante che sta continuando a accumulare pietre in questa zona e il bianco pian pian pianino si sta sviluppando sta sviluppando un certo potenziale vediamo un altro esempio qui ancora una volta famosissimo per quest'anno dei sabacchi vedete che la situazione è questa il bianco fa attachment il nero estende il bianco minaccia di uscire adesso un giocatore qua sarebbe tentato di giocare una mossa di questo genere tuttavia gioca questa mossa qua non con l'intento di connettere qui ma con l'intento vedete di giocare sempre in modo leggero non avrebbe senso giocare in questo modo questo non è giocare light questo è giocare in modo vedete heavy molto pesante molto connesso non c'è potenziale in questa giocata in questa ce n'è uno dice ma allora magari io ti catturo in questo modo e vabbè allora cosa hai ottenuto in questa posizione qua il bianco gioca questa è chiaro che se il nero connette come minimo il bianco a questa che ovviamente rinforza queste pietre e crea una posizione dentro il nero senza contare che questa pietra è accecata e quindi il nero è costretto a giocare in questo modo il bianco fa ponnucchi vedete quello che abbiamo visto nel video precedente è valere diciamo 30 punti nel modo che abbiamo visto in quel video quindi non sono veri proprio 30 punti e che ci crediate o no localmente il nero deve giocare questo quindi deve lasciare sente al bianco vedete che questa struttura non è forte non è solida ma è difficilmente attaccabile perché è impossibile catturarla ha troppo potenziale al centro se naturalmente il nero insistesse a giocare mostri di questo genere il bianco è tutto contento perché fa atari per esempio in questa posizione e come minimo a questa ma come minimo proprio se per caso il nero prova a recuperare chiaramente non ottiene niente il bianco sopravvive nell'angolo ha potenziale qui e il nero deve stare attento a seconda della situazione che c'è attorno a salvare questo gruppo questo gruppo quindi posizione ottimale per il bianco ripeto questa è la posizione che il nero deve raggiungere e che non ha niente di meglio da fare ultima posizione sempre con la stessa idea è un approccio di questo tipo qualcuno gioca questo tipo di difesa questa è una difesa tipica di un giocatore come abbiamo visto double digit Q che in questa mossa spera di ottenere tutto l'angolo l'ho trattato nel mio sito questa mossa qua è sbagliata però è chiaro che con mosse di questo genere qui da parte del bianco c'è comunque un gioco heavy un gioco un po' pesante perché vedete che queste pietre qua pian pianino cominciano a diventare pesanti vedete è un attimo questa mossa qua minacciava il honey at the head of two stones che è molto forte in questo caso e quindi il nero deve giocare questa ma vedete che quello che ottiene il bianco è quello di avere pietre tutte quante unite certo è ovvio che se il bianco ha un'estensione in questo punto lo può fare in modo tranquillo è tutto da discutere se questa giocata è heavy scusate questa giocata è heavy oppure no però in assenza di altre diciamo considerazioni in generale questo è un gioco tendenzialmente pesante come lo è se volete questo tipo di gioco cioè quando il nostro avversario fa kosumi è chiaro che questo tipo di giocata è un po' pesante non c'è niente di meglio per questioni appunto legate alla situazione però questa giocata qua è in generale pesante non è leggera una giocata leggera sarebbe questa piuttosto bisogna vedere naturalmente tutto quanto tutte le considerazioni legate alle surrounding stones come al solito però questa è una giocata leggera questa è una giocata pesante in generale se giocate in modo pesante alla lunga non farete mai progressi nel go anche se queste mosse qua magari sono sbagliate oppure non sono la mossa ottimale considerata dal computer hanno il vantaggio di insegnare un gioco light che è il gioco tipico dei giocatori molto forti quindi nel vostro gioco cercate sempre di considerare le mosse light una pietra in più o una pietra in meno alla fine della partita tra giocatori Q non ha mai fatto realmente la differenza o almeno nella maggior parte dei casi arrivederci alla prossima puntata una settimana permittata è la pietra in meno